a trascorso la sua latitanza durata ben 17 mesi in una villa immersa nel verde tra botole e saune nella zona collinare tra marano e quarto nel napoletano il 47enne luigi carandente tartaglia ritenuto esponente di spicco del clan orlando polverino nuvoletta manettato dai carabinieri del nucleo investigativo di castello di cisterna mentre era in un letto d'ospedale nel casertano reduce da un intervento in quanto afflitto da problemi cardiaci a darne notizia ieri è stato il ministro dell'interno matteo piante dosi che ha lodato l'operato degli investigatori i militari dell'arma nella sua dimora non l'avevano mai trovato ma sapevano che era malato di cuore e quindi monitoravano gli archivi informatici del sistema sanitario nazionale l'allert è giunto qualche giorno fa relativamente alla segnalazione di un intervento al cuore nell'ospedale pineta grande di castello volturno i carabinieri sono entrati nell'ospedale sul lettino dopo l'intervento hanno trovato il latitante che ha fornito false generalità adesso è monitorato e piantonato nella struttura sanitaria i carabinieri di castello di cisterna coordinati dalla dda di napoli erano sulle sue tracce dal marzo del 2022 giorno in cui è stato emesso nei suoi confronti un mandato di cattura per una condanna complessiva di 14 anni e tre mesi di reclusione per associazione mafiosa l'ultimo tentativo di catturarlo risale allo scorso 5 agosto quando durante un inseguimento carandente tartaglia fuggito dopo aver speronato e ferito un equipaggio dei carabinieri del nucleo investigativo che a bordo di uno scooter dell'arma lo avevano individuato e tentato di fermarlo al termine di indagini coordinate dalla dda di salerno la squadra mobile di salerno insieme con il reparto territoriale dei carabinieri di nocere inferiore con la compagnia della guardia di finanza di cava dei terreni ha catturato ieri sera il latitante vincenzo confessore 45 anni destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere l'uomo irreperibile dal 2 dicembre del 2022 è stato individuato dagli agenti della polizia di stato a napoli in un noto ristorante del quartiere mergellina a confessore gli inquirenti contestano in concorso con altri indagati reati di associazione per delinquere di stampo mafioso estorsione aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose nonché di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti vincenzo confessore insieme con il fratello daniele era sfuggito all'operazione della dda di salerno sostituto procuratore elena guarino procuratore giuseppe borrelli e procuratore aggiunto luigi alberto cannavale del 2 dicembre 2022 che ha scompaginato il clan fezza de vivo di pagani l'ultimo fine settimana di agosto potrebbe essere uno tra i più complicati sul fronte del traffico stradale autostradale saranno molte le persone che durante il weekend faranno ritorno alle proprie case dalle località di vacanza ma c'è anche chi le ferie le fa cominciare proprio in questi ultimi giorni del mese come sottolineato dal piano esodo estivo 2023 della polizia di stato per quanto riguarda il contro esodo l'analisi dei dati di traffico fa presumere una distribuzione dei rientri in tutti fine settimana del mese di agosto e nel primo fine settimana del mese di settembre con criticità da bolino rosso in particolare lungo la viabilità ordinaria ed è autostrade per l'italia a segnalare che le situazioni più difficili sul fronte del traffico sono attese lungo le direttrici verso le grandi città con le situazioni più critiche in particolare per sabato mattina per chi parte e sabato e domenica sia mattina sia pomeriggio per chi rientra il traffico sarà sicuramente più intenso per tutta la giornata di oggi con bolino rosso per la mattinata sia per chi rientra sia per chi parte al pomeriggio possibili criticità per chi rientra dei luoghi di mare per l'ultimo scorcio di vacanza previsto infatti altro bolino rosso dalle 8 di sabato e fino alle 16 scatta anche il divieto di transito sulle autostrade e camione e mezzi pesanti il divieto è valido per trasporto di cose con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo anche se scarichi giornata critica per il traffico anche quella di domenica sono attese le medesime condizioni di oggi per chi torna dalle ferie bolino rosso quindi sia la mattina sia il pomeriggio verso le grandi città mentre il bollino sarà giallo al mattino sulle direttrici verso le località turistiche anche per domenica stoppa i tiri in autostrada dalle 7 fino alle 22 la polizia stradale consiglia di partire sempre informati sulle condizioni delle strade del traffico e del meteo prima di mettersi in viaggio il consiglio chiaramente di farlo quando è atteso meno traffico quindi quando le previsioni indicano bolino verde cioè soprattutto di sera in casi estremi si possono poi usare gli itinerari alternativi predisposti in caso di congestione del traffico lungo le autostrade la pizza portafoglio affonda le sue radici nella tradizione culinaria partenopea ed è il più antico esempio di pizza in versione street food la pizza portafoglio di dimensioni più ridotte rispetto a quella al piatto prende il nome dal fatto che viene ripiegata su se stessa proprio come un portafoglio per facilitarne il boccone anche mentre si cammina vera e propria prelibatezza proprio nella città partenopea è stato inventato il modo di dire pizza portafoglio una pizza takeaway da piegare da mangiare a morsi mentre si passeggia anche per i vicoli della città tra le tantissime pizzeria di via tribunale una menzione speciale la merita senza dubbio di matteo conosciutissima anche in ambito internazionale ed è letteralmente presa d'assalto da cittadino da turista o da pendolare quel che è certa è la voglia di pizza la voglia di gustare il sapore tipico tradizionale dell'antica scuola napoletana abbiamo ascoltato chi lavora ogni giorno a mantenere viva la tradizione della pizza portafoglio ma anche dei napoletani e dei turisti il nome che ha la pizza portafoglio perché è tradizionalissima e antichissima quindi è sempre piace sempre poi molto facile da mangiare ed è anche piccola quindi c'entra allora con un panetto di 80 grammi con pomodoro san marzano con fiore di latte di aggela e basilico e olio extravergine di olivo abbiamo mangiato la pizza fritta buonissima la consiglio e la pizza portafoglio la mangiamo oggi per la prima volta è storica la pizza portafoglio nasce per la povertà per le persone che dovevano mangiare qualcosa per strada il cosiddetto oggi chiamato street food vale la pena provare la pizza perché è un patrimonio dell'umanità praticamente la pizza di napoli e non l'ho mai provata siamo venuti a napoli a possa